E' vero o no che hanno un po' il gusto per il drammatico, i russi in genere? Direi che è una qualità obbligata, perché noi viviamo in una terra, in un clima che insomma adesso conoscete anche voi, è drammatico. Dunque sul proscenio e nella realtà lo spirito russo è drammatico. La tascia dice che è il clima, secondo me è l'enormità, geografica, etnica, storica, tanto, tantissimo, molta roba e quando c'è molto è facile aspettarsi di tutto con sensi e contrasti, imprese e appunto drammi. Grazie Grazie